Può Homer Simpson essere un comunista? Suo padre ha parlato a suo nome. Il mio Homer non è comunista. Sarà pure un bugiardo, un maiale, un idiota, un comunista, ma vi assicuro che non è una porno star. È un gran bel locale, non si parla. Aspetta un momento. C'è qualcosa che non mi quadra in questo posto, eh? Eh, ci sono. In questo bar per solo donne non ci sono le uscite di sicurezza. Vedetevi la vostra trappola mortale, signore. Homer, che posso fare per sé? Signore, vorrei sapere dove posso trovare delle amache da ufficio. Tanti nomi. Amache, che idea. Com'è che non l'ho avuta io? Amache. Homer, ci sono quattro negozi. Amica, amaca, sulla terza strada. Hai mica un'amaca, eh? Anche quello sulla terza. Poi c'è Amaca Mago, sempre sulla terza. Bene. Che figa l'amaca. Ok. Scusa, dimenticavo anche non solo amache. Sono tutti nel distretto delle amache. Oh, il distretto delle amache. Ma che ti sei bevuto a cervello? Lo sapevo, anche nei weekend tu sei un normalissimo padre. Homer, preparati! Per cosa? Non ricordi, andiamo a teatro con Luana e Chase a vedere separati in casa? E quella roba non mi interessa. Avevi detto che saresti venuto per fare... Non sembra una cosa uscita dalla mia bocca. Benissimo, ti è trovata sola! Ok, ti amo! Aiuto, l'umano sta per fuggire! Levatevi le zampe di dosso, sporchi scimioni! Oh, help me, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius, Dr. Zaius. What's wrong with me? I think you're crazy. Want a second opinion? You're also lazy. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Oh, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Questo musical l'ha proprio tutto. Oh, vado pazzo per il teatro classico. L'alieno ha una voce dolce, celestiale, come Louis Armstrong, e arriva sempre di venerdì come il pesce fresco. Come il pesce fresco. Oh, la sua storia è irresistibile, signor Babaleo. Voglio dire, Simpson. Allora, batterò il tutto sulla mia macchina da scrivere invisibile. Oh, non occorre a umiliarmi. Oh, no. Mi abbasso i pantaloni per sì. Stai guadagnando qualche soldo. No, finché quello lì si esibisce gratis. Quella cavalla lì non è la stessa più. Non è la stessa più. Non è la stessa più. Quella cavalla lì non è la stessa più. Non è la stessa più. Non è la stessa più.